Ciao grullaia, benvenuti in questo nuovo video dei brothers, siamo ritornati qua finalmente con un deck troll Mi scuso per l'assenza ma ragazzi non trovavo altri deck interessanti da fare, adesso fra pochino arriva ultra prisma e ultra minchia Quindi vediamo un po' se in quell'espansione uscirà qualcosa di interessante Nel frattempo ragazzi oggi siamo qua con il deck troll di Among Us È un deck che ho visto da Aurora e non mi ricordo assolutamente le carte che aveva e l'ho diciamo rifatto da zero con le mie mani Insomma poi se è uguale non lo so però vedremo Allora partiamo semplicemente sulla Among Us, cos'è che fa? Con una energia il Pokémon attivo del tuo avversario viene confuso e avvelenato quindi molto bene Ma confuso e avvelenato fa poco quindi andiamo a mettere i Seviper e ne sono ben 4 ovviamente Se il Pokémon è avvelenato anziché un segnalino danno ne fa uno in più per ogni Seviper in panchina E avendone 4 sono 40 danni Poi dato che comunque il Pokémon lo potrebbero ritirare si può usare benissimo il Drag Age se ci riesce averlo in mano Perché in panchina evita che i Pokémon avvelenati possono ritirarsi quindi in pratica avvelena di continuo e alla fine li porta a una morte lenta e dolorosa Sperando sempre che la confusione faccia effetto Poi cosa ci ho messo? Palestra di Zondopoli che nei deck veleno è essenziale Raggio Ippnotossico anche quello è essenziale Poi ovviamente Ivarienne, Platan e Acromio per far girare il mazzo come vogliamo Minorable per prenderci Pokémon base Un Tonico Evolutivo per far evolvere uno di questi Poi ne ho messo uno solo perché comunque c'è tante carte che fanno girare il mazzo ed è difficile che non ci arrivino le carte buone E poi ho messo 10 Energie Psico Detto questo ragazzi scrivetemi qua sotto nei commenti un futuro deck troll E se magari sapete già delle carte interessanti per Ultra Prisma Andiamo a provare il deck subitissimo Avversario trovato andiamo subitissimo a vedere cosa ha Allora allora il nostro avversario non ha nessun Pokémon quindi andremo subitissimamente a vedere un po' Che deck di merda ha un deck comunque completamente psico quindi sarà probabilmente Kankar come il nostro ma vediamo un po' Noi intanto abbiamo una mano di merda come sempre Vi invito intanto lasciare un bel mi piace un commento e fatemi sapere qualche altro deck troll da fare Allora sta scegliendo i Pokmeon Allora abbiamo finito qua rimettiamo tutto dentro guardate che fighe le mie portacarte di Pikachu Allora partiamo subito con il funghetto con la Pokéball in testa Vediamo un pochino intanto abbiamo già un'energia La Mongoose, la Minor Ball, Platan abbiamo praticamente ogni cosa Mi dispiace solamente per i due cerca sfide che andremo probabilmente a buttare con Platan A meno che non ci esca N Allora a Mimikyu che abbiamo un'altra Mongoose di cui adesso non me ne faccio assolutamente niente Però con la Minor Ball potremo prendere un bel Sea Viper ed eccolo là che ci andrà a fare un altro segnale danno Usiamo Sgomento e si esce testa Infatti non esce non ve lo dico nemmeno perché è tanto stigea Allora upa lupa in panchina Fichissima la moneta di Pikachu del set trainer incredibile Pesca due carte Allora lui praticamente con questo Mimikyu finché noi glielo facciamo fuori si andrà a rifullare di mille mila carte A questo punto non so se prendere un Fungus o un altro Sea Viper Così prendiamo un altro Fungus così mi posso levare i due Among Us senza sprecarli Perché dato che non sarà facile ritrovarli Possiamo a questo punto attaccare tanto lui ha un Mimikyu che al massimo pesca due carte E noi cerchiamo di arginarlo un po' così ecco Lui adesso è confuso e avvelenato quindi sono curioso di vedere che cosa fa È sempre un rischio attaccare perché comunque infatti userà la detta del centro Pokémon Allora che è il nemico principale di questi deck perché non si può giocare così Fortunelmo che dirla tutta è inutile al mille per mille contro questo deck Perché tanto io non attacco direttamente Timer Ball una testa e una croce quindi si va a prendere un Gengar di quelli Veramente kanky perché se il mio Pokémon se non sbaglio uno più segnalini danno muore diretto così a caso Quindi dobbiamo stare attenti a non farci attaccare Anche se sarà una cosa difficile visto che il suo Upa mette due segnalini danno a due Pokémon random che ho io Quindi sarà molto difficile ma noi pompiamo il Sea Viper Evolviamo l'altro Among Us Fanculo cerca sfide Andiamo a cercare roba più forte e roba più meglio Tra i raggi protossici Vabbè bel mazzo eh sti gran cazzi Martellino tattico vediamo un po' accrocio Ok sempre il buco del culo di Pikachu Spara folle Che fa 30 danni E via Se ci fosse stato magari la palestra di Zondopoli sarebbe stata tutta un'altra storia Allora allora il raggi protossico adesso mi serve relativamente a poco visto che ho già la Mungus carico Torre Chaos Praticamente i Pokémon suoi non possono venire addormentati e confusi Quindi l'ho presa nel culo Incredibile come annullare un deck troll Allora adesso mi deve per forza uscire la palestra della Cristo Zondopoli Allora furtarello si va a pescare due carte Penso eh Oh possione max se non mi serve veramente a una minchia Però a questo punto devo assolutamente usare Platan Anche se mi scoccia veramente un botto Andare a sprecare tre raggi protossici così veramente a cazzo di cano Allora a questo punto possiamo mettere la pietra lieve su Amungus E rimettere l'altro Giusto per levargli la confusione Testa e andiamo a levare una energia e la leviamo A mimichio anche se comunque non saprei a chi levarla Mettiamo un altro Siviper e dobbiamo aspettare assolutamente la palestra Se no qua siamo nella merda Letta del professore si pesca due carte Non capisco comunque adesso cosa voglia fare sinceramente Anche lui mi vuole distruggere i Pokémon avvelenandomi Allora continuo a pescare delle carte va bene Se avevo il deck di Aundu ma sicuramente a questo l'avrei già vinto Perché se lui pesca talmente tante carte in questa maniera Veramente avevo già vinto Ho il Toxapex GX Hyper Che comunque Sì ti avvelena un botto per caricarlo Ci vuole almeno tre turni Lui vuole intanto pararsi il culo con Gengar Che è riuscito a fare evolvere Cosa non facile dato che è di fase 2 Allora mette Upa e quindi mi vuole andare a mettere due segnali danno sicuramente sugli Among Us Fortunelmo ancora insiste ma non ha capito questo proprio come si gioca E te lo dice uno che fa cacare a giocare Vediamo un po' che mi attaccherà I due Siviper così a caso Non so se avrei fatto questa scelta ma la palestra di Zondopri è lì pronta a salvarci A salvarci il diretto ano Acromio pensaci tu Screlp Among Us un'altra palestra che regà è da 10 Proprio Attacchiamo direttamente Ormai Upa te lo metti nel diretto ano Sono 60 danni questo turno Al prossimo sono altre tanti Abbiamo anche lo Screlp Che con il tonico evolutivo andremo a evolvere Incredibilmente Allora un altro Upa mette in campo Ragazzi non so bene cosa Saria ha detto del centro Pokémon Ormai ce n'hai quanti ne vuoi Spero vivamente che tu li finisca nel giro di ora Letta il professore anche lì Un'altra e due energie Penso andrà a caricare il Toxapex Visto che è il suo Pokémon main di questo mazzo Non lo so Sta continuando a caricare il Upa per andarmi a ferire E poi a distruggere con il Gengar Vediamo un po' chi mi colpirà Probabilmente Screlp Ancora i Siviper Sinceramente non lo capisco eh Io avrei ferito un po' tutti E poi boh avrei visto un po' Intanto Dragage Gli andiamo ad attivare La sua abilità incredibile Poi direi di fare una pozione max Per pagarsi giusto il culo Tanto ormai su Amungus non ce ne frega una sega E sono 60 danni Confusione E vediamo se ha un'altra addetta del centro Pokémon Della minchia Altra energia su Upa E quindi proverà a fare un colpo portale Che fa 130 danni Però al turno dopo non può attaccare Io Fossi in lui Avrei caricato il Toxapex Tranquillamente Però Lui evidentemente Può attaccare con Upa Va bene Scrivetemi qua sotto nei commenti Che mostra avreste fatto Perché Secondo me sta giocando veramente male Allora Pugno dimensionale Riesce anche ad attaccare Vediamo un po' chi mi attaccherà Altri due si vai Però ok Adesso ha fatto una mossa intelligente Oh Palestri di Zondopoli a sfare Quindi anche se metti la tua Carta stadio di merda Direi di finire il turno E andiamo a prenderci la prima carta premio Che è Un'altra energia Di cui non me ne faccio assolutamente Niente Bravi ragazzi Allora Upa ancora Che se mette l'altra energia Che ha Perché l'ha pescata adesso Ci butta giù il primo Amungus Però Noi avendo già l'altro carico E lui sicuramente avrà Un'altra Detta il centro pokemon Siamo leggermente Nelle feci Con i vermi Veramente male Carichiamo Screlp Giusto uno stoppino Qui lo avveleniamo In questa maniera Molto rapida Ed indolore Ora Vediamo un po' Bello Upa Comunque Possente Au Che ci saluta Dicendo Fai cagare Torna a casa tua Pesca tre carte Ti ne rimangono sedici Quindi Vediamo un po' Oh Ha iniziato a caricare il Gengar Quindi potrebbero essere Leggermente Guai Perfetto Regà La confusione ha fatto il suo effetto Meno male Meno male Perché adesso sta a noi E confonderemo E avveleneremo Il suo pokemon Che metterà in campo Questo regà È perfetto Una ottima Un'ottima mossa Se fosse uscito testa Magari sarebbe stato un problema Allora A questo punto Io direi Dato che quel toxapex Mi sta antipatico Di prendere Elisio Perché quel mimichio Ormai è uno stoppino E mettergli il toxapex Uno Perché per ritirarlo Ha bisogno di tre energie Due perché Non lo può ritirare Perché abbiamo il dragage E tre Perché con spara folle Lo avveleniamo E lo confondiamo Così si fa 60 danni a botta E non avendo energie Direi Che morirà Lui adesso ha sprecato Un sacco di energie Per Upa Cosa che non deve fare Addetta Lì addette Su addette Che regà Non so neanche da dove Le tira fuori Tutte le volte Ma rimane comunque là Perché non ha energie Insomma Ha mille carte in mano Ma sta continuando A caricare altri pokemon Secondo la mia logica È come il suo mazzo Non ha bisogno Di tante energie Perché attacca con una Tutte le volte Quindi penso che Più di 10 Non ne ha E abbiamo vinto Ragazzi Abbiamo vinto Partita bruttina Però vi ho fatto vedere Come funziona Questo deck Ovvero abbiamo messo Tutte le scale Di grado Di questo mazzo Quindi abbiamo messo I vari Seviper Lo screlpe Evoluto In dragage Che blocca La ritirata E pokemon Abbelenati Abbiamo attaccato Con una mongoose Quindi regà Tanta roba Fatemi sapere Che cosa ne pensate Di questo deck Consigli Commenti E mi piace Noi ci si vede Alla prossima E ciao a tutti Ciao a tutti